In questo oasi di silenzio e di pietà vengono tanti dall'Italia e da ogni parte del mondo per attingere forza e speranza, e penso in particolare ai giovani, alle famiglie e ai malati. La Cassanta Cassa è la Cassa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane, piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca della propria vocazione. Per questo ho voluto firmare qui l'esortazione apostolica frutto del sinodo dedicato ai giovani. Si intitola «Christus vivi, Cristo vive». La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i giovani, a percorrere il cammino della pace e della fraternità fondate sull'accoglienza e sul perdono, sul rispetto dell'altro e sull'amore che è dono di sé. La nostra Madre, stella luminosa di gioia e di serenità, doni alle famiglie, santuari ed amore, la benedizione e la gioia della vita. Maria, sorgente di ogni consolazione, porti aiuto e conforto a quanti sono nella prova. izzera Grazie Grazie a tutti.